C'è sto morto per te la nuova e chi scappa la nuova sigla? E' mezzo al giorno, mezzo al giorno, mezzo al giorno e tre, 12 in zero. E' una cosa incredibile, non ci credo, non è vero, ma non ci credo. Ti costringono a credere, è una cosa che io. Ma come è possibile? Manca poche sensibilità. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. I gami si è ambulanzano, avete bloccato l'ambulanza. Vabbè, i gami si è ambulanzano, è quello il mondo. Vabbè, voglio sapere di chiare la responsabilità. Perché è mezzo al giorno, è mezzo al giorno, perché ne fate mantenere l'era che vuole. È mezzo al giorno, non dovevano entrare. E' gravissimo, signori della polizia. E' gravissimo! 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 Sono tre, sono tre di cinquecento, fatti cazzo, mi deve pagare, chi mi deve pagare? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie.